molto bene continuiamo con le richieste abbiamo ancora un tango grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Suona un'armonica. Mi sembra un organo che vivrà per te e per me sull'immensità del cielo. Grazie a tutti. Bene, ritorniamo al valzo con una nostra composizione che è stata dedicata a suo tempo al maestro Secondo Casadei. Ve la canta Lidia, ve la canta Lidia, ve la canta Lidia è una nostra incisione ed è appunto la leggenda di Secondo Casadei. C'era un'armonica. la canta Lidia è un'armonica. Nel tempo ormai la canta Lidia è un'armonica. 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 Continuiamo con un gran waltzer per Fisa, Monica e Cristian Grazie a tutti 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 Grazie a tutti